ciao sono un limone eccoci come immaginavo non a caso ho scelto proprio questo titolo per questo video ovvero sia mi piacciono i limoni perché questo perché il nostro cervello è veramente strano quanto al tempo stesso complesso e interessante di fatti il titolo scelto è stato fatto apposta per invogliarvi a vedere questo video sembrerà strano però quando il nostro cervello si concentra su un unico punto che può essere anche un'informazione potrebbe essere un oggetto potrebbe essere anche un alimento un vegetale in questo caso che è un limone tra l'altro strafresco il nostro cervello vede solo quel punto e non è un caso di fatti che al giorno d'oggi la concentrazione che noi abbiamo non è più come una volta siamo bombardati sempre da migliaia e migliaia di informazioni un'informazione che però viene lasciata da vari multimedia instagram facebook tiktok e non riusciamo mai a focalizzarci su un ads ma siamo letteralmente connessi come multitasking prendiamo un esempio stiamo leggendo una notizia e subito ci arrivano altre notizie simili di prodotti di pubblicità e siamo invogliati a andarle a vedere praticamente non riusciamo mai comunque a terminare la lettura di una notizia che potrebbe essere quella di un quotidiano di una rivista scientifica magari anche di playboy perché subito dobbiamo andarne a vedere degli altri siamo nella condizione di avidità dell'informazione e questo purtroppo il cervello è sempre costretto a farlo conscio comunque di creare sempre nuove connessioni e di sondare comunque il mondo attorno a sé ricordiamo però che le interpretazioni che noi abbiamo del mondo noi esterno di fatti è quello che noi vediamo con i nostri occhi ma nella realtà comunque del cervello stesso la sua interpretazione è fatta di input e output cioè quello che lui riceve con segnali che devono essere continuamente lavorati ma del resto si sa effettivamente è il lavoro che fa il cervello stesso ma è incredibile come se io porti già davanti in questo schermo questo limone la mia attenzione si focalizza già sul limone se ciò non fosse possibile avremmo comunque altri problemi per esempio non potremmo stare attenti comunque a notizie molto più importanti non ci ricorderemmo gli avvenimenti saremmo più soggetti comunque a pericoli esterni pensiamo ad esempio quando attraversiamo la strada e passa una macchina o molto più semplicemente non ci ricorderemmo quello che c'è da fare ecco che l'attenzione del cervello non è mai logica verso certe figure che possono anche essere particolari colorate sicuramente o con strane forme appuntite e possono anche trovarsi dietro di noi quindi attenzione questo non è a caso il nostro cervello quindi ci dice attenzione cos'è quell'oggetto potrebbe essere da mangiare potrebbe essere un oggetto che è da evitare potrebbe essere magari anche un oggetto quindi di cui può farne uso può essere scambiato con altri non importa per quella per quell'oggetto il cervello comunque avrà un sensore in più nel senso che lo reputerà quindi come una condizione che potrà essere pericolosa o meno e se ci pensiamo bene di fatti non è una concezione sbagliata perché il cervello atavicamente si è evoluto con noi nel corso comunque dei millenni ma non ha una coscienza propria la coscienza la sviluppiamo noi la coscienza è qualcosa che noi portiamo dentro e tramite la relazione esterna con il mondo comunque riusciamo comunque ad aumentarla però in questa relazione esterna comunque ci sono tanti oggetti persone e il cervello continuerà praticamente a scannerizzarle la neurofisiologia è talmente complessa quanto affascinante ed è davvero molto particolare come qualsiasi oggetto possa essere visto dal cervello come un potenziale pericolo o potenziale oggetto d'uso e abuso potrebbe essere ma nella realtà dei fatti il cervello praticamente va a scansionare qualsiasi oggetto e da lì noi decideremo il cosa da farsi attenzione però ma se io non avesse una coscienza di quello che ho davanti allora quell'oggetto potrebbe significare un pericolo per me di per sé il cervello non sta ad identificare se quello è effettivamente un pericolo o meno il cervello ci va più che altro ad attenzionare l'oggetto stesso non sappiamo quindi che se non avessimo una coscienza e non saremmo in grado di interpretare la realtà se questo fosse un veleno fosse comunque un cibo buonissimo non potremmo mai saperlo il cervello gioca comunque quindi su input e output sensoriali la nostra conoscenza di fatti del cervello è praticamente agli inizi ma possiamo pensare di fatti che arriveremo a un momento dove forse la nostra attenzione riuscirà a essere maggiormente focalizzata e tutto questo da che cosa sicuramente un metodo per aumentare la concentrazione la focalizzazione di noi stessi sarebbe quello comunque di concentrarsi solamente solo su una cosa da fare e qui il gentil sesso di fatti risulta battere noi maschi alfa ricchi enormemente di testosterone e attirati dalle donne perché questo perché il cervello comunque femminile ha una capacità di adattamento comunque a più funzioni diverse quindi risulterà essere multifunzionale rispetto al cervello maschile non è un caso di fatti che nelle antiche società di fatti il maschio concentrasse la sua attenzione solo su una cosa generalmente era la caccia mentre viceversa invece la donna concentrava la sua attenzione quindi su più relazionalibilità ovvero sia più attività interconnesse fra loro non è un caso di fatti che se il presidente della repubblica italiana secondo me fosse donna le cose sicuramente andrebbero per il meglio ma perché alla base dell'attività cerebrale il cervello femminile con rispetto a quello maschile sicuramente per un'interconnessionabilità anche dovuta all'influenza ormonale ha una maggiore connessione quindi per poter fare più attività svolte in contemporanea e fatte e fatti in una certa maniera viceversa noi maschietti riusciamo a fare una cosa ma la facciamo anche bene ecco che se noi mettiamo insieme queste due figure in questo caso riusciamo a ottenere una perfetta capacità comunque relazionabile di ottenimento di certi obiettivi il che praticamente è fantastico certo non riusciremo mai a capire il perché dell'esistenza penso da qui fino ad ora dal momento in cui sto facendo questo video ma guardate bene per esempio che adesso la mia attenzione non è più stata su questi oggetti ma è stata unicamente verso lo schermo quindi la capacità di adattamento che noi abbiamo nell'attenzionare maggiormente una cosa rispetto ad un'altra è veramente fenomenale quasi forte e aspetta solamente solo a noi riuscire ad aumentarla non è un caso che esistano anche di fatti diversi training di formazione per aumentare la concentrazione dove si spendono milioni e milioni di euro basterebbe però solamente concentrarsi su quell'oggetto che come potrebbe essere lo studio è il rango funzionale di quello che io sto facendo quindi magari spegnendo comunque instagram facebook whatsapp tiktok che sono comunque strumenti è vero sì di informazione ma anche di relax ma sono anche strumenti in questo caso che danno fastidio perché di fatti come dicevamo prima il cervello sarà continuamente attenzionato a spostarsi da una parte dall'altra continuerà a sondare e non riuscirà mai a trovare quello che a noi effettivamente interessa che nel nostro caso potrebbe essere lo studio ma pensiamo anche durante il cibo stesso durante il pranzo o la cena stessa durante un pasto in poche parole la nostra attenzione non sarà mai rivolta a quello che stiamo mangiando ma a quello che noi facciamo per fotografarlo e cambierà anche la nostra concezione comunque di sazietà per esempio o comunque di mancata fame questo perché comunque il nostro cervello è come se fosse disconnesso da quello che sta facendo e quindi il fenomeno della sazietà ovvero sia gli input che ci stanno ad indicare che quella persona sarà maggiormente o sazia o meno arriverà molto più tardi rispetto a chi non stia utilizzando uno smartphone fa davvero tanto comunque effettivamente la tecnologia sulla funzionalità del cervello quando in poche parole basterebbe creare una tecnologia fatta per cui da aumentare la concentrazione senza avere tutte queste distrazioni ma il che però è un paradosso perché ci ridurrebbe usare una sola applicazione che sarebbe quella per la concentrazione al giorno d'oggi non è assolutamente possibile pena sicuramente comunque l'eliminazione dei sociali che mamma mia non lo vorrei nemmeno io quindi ecco perché sta a noi riuscire in questo caso a trovare la concentrazione che sia anche zen in modalità serena ma che ci permetta in questo caso di continuare l'attività che stiamo facendo e di farla anche al meglio sia studiare mangiare innamorarci baciare andare a prendere dei limoni potrebbe essere fare figlia anche perché ci vuole concentrazione anche per quello e che non porti di fatti alle distrazioni